Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io credo in tutti gli eventi che possono portare a conoscenza il mondo paralimpico perché per noi far conoscere a tutte le persone che hanno avuto una disabilità, hanno avuto un problema, di conoscere come noi lavoriamo e che cosa possono avere e qui hanno tutte le opportunità di poter provare a provare ben 50 discipline sportive. Daniele e Mattia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.